Il GF spoiler era Gael e De Dona terza Antonella salvata solo dall'8% dei votanti. La seconda finalista del Grande Fratello VIP 2023 è Sofia Gael e mentre a essere eliminata dalla casa è stata Antonella Fiordelisi. A grande sorpresa, la ragazza è stata eliminata dopo gli appelli da parte dei genitori in settimana. È stata una puntata piena di emozioni, ma soprattutto tutta incentrata sul difficile rapporto che Antonella Fiordelisi ha avuto all'interno della casa. Proprio all'inizio della puntata, Alfonso Signorini ha pregato Antonella Fiordelisi di uscire e se non se la sente. Precisando che nessuno avrebbe pagato alcun tipo di penale. Ma quello che fa discutere è lo spoiler sul sito del Grande Fratello VIP della seconda finalista. La clamorosa gaff del Grande Fratello VIP che sul sito ufficiale ha pubblicato le percentuali del televoto. Ma al tempo stesso ha finito per anticipare la terza finalista a tutti. Sofia Gael e De Dona sarà la terza finalista. Al momento in cui questo articolo viene pubblicato, Alfonso Signorini non ha ancora annunciato in diretta il nome della terza finalista ma sul sito, per l'appunto, è stato già pubblicato. Dopo aver appreso della sua eliminazione, Antonella Fiordelisi si è sfogata con Alfonso Signorini che ha spiegato che la madre ha usato la sua pagina Instagram per fare un appello a tirare fuori la figlia dal Grande Fratello VIP. Antonella l'ha presa molto male, mamma, grazie, che mi hai fatto eliminare evidentemente. Antonella Fiordelisi aveva messo in piedi una strategia, è stata fin troppo creduta. Per quanto concerne le eliminazioni, la prima a essere salvata è stata Nikita. Poi Gael. Tutti credevano che Milena Miconi sarebbe stata eliminata e invece è stata eliminata Antonella Fiordelisi. La seconda finalista è stata Gael. Sono queste le percentuali. In timp ca așa-i betonul, underground, de 97 am dat tonul, dar nu ca Vodafonul, și acum rap-o-i moda ornu. Așa-i, și zici că stom ford, la cum mă comport, întreaba asta nu-i loc de confort, rigor și-o mor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol, încă de când el era vrog și se uza de aerosol. De când avea mol, de când nu știai ce-i miscol, de când ascultam gangsta rapper, bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună-o pe Irina Nistor, vă întâlniți în tristor, la zero grade viscol. Nu tac nici stins mort, o să mă auzi prin sol, transpir hip-hop prin pori.